Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il coprifuoco alle 22 il governo non allenta la morsa per le festività e sarebbe intenzionato a confermare tutte le restrizioni. L'obiettivo del DPCM che entrerà in vigore il 4 dicembre è blindare il paese natale per non ripetere gli errori di ferragosto. Stiamo cercando di capire quali sono le misure sanitarie migliori e le restrizioni che a me saremo costretti a tenere ancora in vita pur di salvaguardare la salute. E per impedire gli spostamenti sulla neve prende forma l'idea di chiudere hotel e resort e quarantene per chi decide di trascorrere il periodo all'estero. Dai presidenti di regione che oggi hanno incontrato i ministri Speranza e Boccia la richiesta di aprire gli impianti per gli ospiti degli hotel e per i proprietari delle seconde case oltre alla richiesta di chiudere i confini a chi vuole andare a sciare all'estero. A Palazzo Chigi Conte incontra anche i capigruppo di maggioranza, sullo sfondo la battaglia sul MES da 37 miliardi di euro per la sanità con i Cinque Stelle che dicono ancora no. Sull'altro strumento di aiuto, ossia il Recovery Fund, le opposizioni si appellano a Mattarella. Non se ne può più, non se ne può più, l'ho detto anche al Presidente della Repubblica ieri. Ritengo vergognoso che il governo non coinvolga l'Italia.